Buongiorno America, sono Strettoic. Non forse non tutti mi conoscono, ma io conosco voi, impero borghese di idioti capitalisti, dove l'intelligenza non conta più nulla. Solo la fortuna e l'avarizia vi spinge ad accumulare ricchezze che non vi porteranno a nulla. Io farò crollare tutto questo. A pochi giorni da oggi la vostra economia sarà cancellata e nulla potrà fermarmi, perché anch'io ho letto i fumetti e non vi spiegherò il mio piano ora. Grazie per la vostra attenzione, signor Presidente, signori. Intentiamo chiedere al coglione in casosina come intende combattere la tirannia economica di Stretto in America. Tadà, quando vi compro di notte libero? Ridicolo, ci sono quasi. E va bene, per Dio. Sì. 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 Sì.